Malgrado un quartiere ancora in stato d'assedio e i nervi a fior di pelle, gli abitanti sono ritornati poco a poco alle loro case. Troppa ancora l'adrenalina per le ore drammatiche trascorse e questo venerdì 9 gennaio ci si aggrappa a tutto per non cedere allo sconforto. Quanto è accaduto oggi è stato orribile, ma dobbiamo credere alla tolleranza e non avere paura, ma è difficile, dice questa ragazza. L'attacco al supermercato ebraico risveglia fantasmi che si credevano sopiti per sempre. Roger Angelovici è un ebreo che vive di fronte al supermercato, è sopravvissuto la seconda guerra mondiale, ma non riesce a capire quanto è accaduto. Com'è possibile, dice, che persone nate e cresciute in Francia possano avere tanto odio per il paese e per i suoi abitanti? Eppure, malgrado le divisioni di cui si parla fra le comunità in Francia, gli abitanti del quartiere assicurano che si manterranno uniti davanti al terrore.